ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi abbiamo la pizza da mangiore sono molto affamata comincio a tagliarla sono le due di pomeriggio due passe e una mi sono messo i microfoni il più vicino possibile con la sensibilità più alta in modo che si sentano molto i suoni di masticazione infatti in questo video sentirete suoni di masticazione di me che mangio se non vi piacciono se vi disgustano chiudete questo video immediatamente qui inoltre parlerò anche di serie tv perchè è un format che mi piace molto non è come con le 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 la le in questo video parlerò anche di serie tv mi piace fare i video heating parlati in cui si fanno un po' di chiacchiere perché trovo che ce ne siano talmente tante di video di heating normali, not talking eccetera che i miei non sarebbero nulla di che da più questi video come una pausa brando insieme quindi la mia acqua naturale ho della pesca non bevo altro e so anche ragazzi che questa non è la vera pizza napoletana eccetera eccetera sì l'ho assaggiata sì è diversa sì non ho tempo di andare a Napoli per fare un video di eating quindi mi sono segnata tutte le serie tv che ho guardato in questo periodo e con questo periodo nintendo tipo da aprile perchè c'è anche trono di spade e ve ne voglio parlare un pochino più che altro consigli a arvene di difficoltà ne penso eccetera una fame non avrà un aspetto glorioso ma è buono allora prima serie tv non so il pozzoletto è Jane the Virgin the Virgin madre che madre è una serie che ho iniziato a vedere sull'idea Netflix è a cinque stagioni penso che su Netflix ci siano solo tre o quattro al massimo è finita quest'anno è una serie tv che fa ridere un po' piangere e prende un sacco fantastico scusate sto mandando con la finezza di non c'era un tema sono un po' scappata e parla se qualcuno l'ha già vista parla di questa ragazza che è rapida e suonano l'ossessionato con la virginità e tutto intanto questo ce n'è nella prima o seconda puntata rimane incinta attraverso un'inseminazione artificiale ed è ancora vergine ed è molto carina divertente però appunto non ha noia perché a me le serie tv sono solo divertenti dopo un po' annoiano a parte Big Men Theory però è veramente carinissima affronta anche delle tematiche molto insomma delle tematiche abbastanza serie in modo sempre molto dolce la protagonista è dolcissima quindi super consigliato e ogni cosa è qualcosa di leggero da guardare ecco un'altra serie tv che ho finito ed è finita è Big Men Theory che mi è dispiaciuto molto che sia finita perché perché non so tv che non ha perso nonostante le tantissime stagioni puntate la sua ironia è stupendo e sono migliorato in realtà io lo seguivo da una vita tipo dalle superiori o secondo o terza e quindi siano molto affezionata a questa serie non potete non potete non averla vista andiamo e se l'avete lasciato un po' lì recuperatela perché è molto carina passiamo a serie tv molto più pesante che è Chernobyl c'è bisogno di dire la trauma di lei e ho fatto da dio ho fatto veramente stupendo pespiso cioè io stavo male dopo ogni puntata però è davvero 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 la pena vederlo e con calma magari se siete persone un po' sensibili anche non da soli io non sono riuscita a mai contare una puntata solo ho sempre aspettato il mio fidanzato perché è molto pesante certo se ne faccio veramente fatica a vederle perché è molto pesante perché mi è successo davvero però veramente fatta stupendamente un'altra serie che è finita è Orange is the new black anche anche questa la seguivo da anni e ero proprio affezionata ai personaggi non vedevo l'ora che uscisse è stata abbastanza diversa l'ultima stagione dalle altre personaggi sono cambiati e per chi non sapesse cos'è Orange is the new black è una serie di Netflix che parla di chi ha come protagonista Piper che è una ragazza figchettina anche se possiamo dire che va in carcere per una cosa che ha fatto anni 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 prima e diciamo che poi la sua permanenza in carcere si prolunga e poi va a incontrare tutte le persone che effettivamente sono in carcere e tra l'altro come è proprio tema mi appagino tantissimo sia il carcere in generale che i carceri americani che sono un mondo sestante ed è molto molto interessante a tratti pesanti a tratti leggeri mi è piaciuto più della scorsa stagione l'ultima stagione è veramente molto carina e bella è una serie tv che vi consiglio tantissimo ma ci sono stupendi poi curioso ogni volta che scopri che scopri perché è un personaggio in prigione eccetera è un botto interessante ve li consiglio tantissimissimissimo poi non ve la ricercita neanche ho finito il trono di spade guardo il trono di spade io sono fida di dire che lo guardavo tipo dalla terza stagione ho guardato la terza stagione in diretta solo le prime giorni guardate una dietro l'altra invece molte persone ne guardavano hanno guardato la quinta e la sesta io no l'ho scoperta prima e vabbè ci sono parecchie recensioni comunque su me va comunque appena guardarla in generale è entrata nella storia ok passiamo a una serie tv che mi è un po' andata giù che è Vittoria Vittoria è la storia della regina Vittoria Inghilterra trisavora tristrisavora bisbisavora non lo so dell'attuale cina Inghilterra Isabetta seconda e le prime stagioni sono stupende mi sono piaciute molto soprattutto la prima è comunque fatto molto bene è molto interessante e tra l'altro i due protagonisti c'è Vittoria e il principe Alberto stanno davvero insieme gli attori stanno davvero insieme nella vita reale cosa che è molto carina secondo me dà molto nel nel telefilm e anche un buon insegnamento di storia devo dire la verità ripassi un bel po' di cose molto carino la realtà stagione forse l'ho vista con un po' meno di attenzione ma mi ha annoiato leggermente continuo comunque a seguirla non so se uscirà un'altra stagione l'ultima perché mi sono affezionata ormai non voglio sapere come fa a finire perché è storia però comunque mi sono affezionata ai personaggi eccetera difficilmente io lascio le serie tipo lì deve essere proprio lunghe e pesante tipo Gossip Girl non ce la ce la più e quindi sì se vi piacciono la serie tv di principess regine tipo non so Versailles ce ne va un sacco un sacco così le crown invece non mi è piaciuta l'ho già tenuto proprio in puntata comunque vi torno di queste e ve la consiglio un'altra serie tv che all'inizio mi piaceva ma che poi mi ha stufato è Revenge una serie vecchiotta tipo il 2014 è finita da un po' e me l'aveva consegnata a Netflix quindi proviamo all'inizio mi piaceva molto poi forse ho un po' adagerato dovevo guardarla molto più lentamente magari con molte più pause però dopo un po' veramente ho detto vabbè mi leggo la trama e guardo solo le ultime puntate ed è ciò che ho fatto un po' pesante la prima stagione è molto carina ecco se proprio guardate la prima stagione se avete voluto guardare qualcosa di nuovo passiamo a una serie tv che mi avete consigliato voi e che mi è piaciuta tanto 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 e di cui non mezzo l'ora escherà terza e ultima stagione e si tratta di dark 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 tagliamo sta pizza ma questa pizza è freddissima è buona lo stesso vuoi piacere la pizza fredda? no dark dark parla praticamente di posso dire sì piacere il tempo è super misteriosa comincia in questa cittadina chiamata Winden sfigatissima della Germania quindi io scapperei le gambe levate però e appunto succedono dei rapimenti robe strane e poi si scopre piano che fino hanno fatto queste persone e c'entrano non vi voglio aspettare però sì è è intrigante bisogna starci molto attenti ma è super 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 consigliata è piaciuta sia me che il mio ragazzo quindi è molto bello guardarla anche insieme fare farsi nuove idee nuove teorie eccetera serie tv che ha appena 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 avuto di vedere tipo ieri è la seconda stagione di Elite mi piace un po' tutto il suono di quando si attende il primo morso mi è piaciuto un po' mi è piaciuto più della prima la seconda stagione mi ha detto la seconda stagione di Elite che poi ha fatto dei tagli e mi piace veramente tanto mi ha preso penso più una serie tv per donne poi in generale piace più le donne che i nomini invece d'Arco piace entrambi e bello bello super promosso questo è di Netflix la trovate su Netflix Netflix sponsorizzami ti prego a parte a parte a parte parla Elite parla di dei ricconi che frequentano un collegio spagnolo che nella prima stagione praticamente va a fuoco una scuola una scuola non so e quindi si offrono delle borse di studio da ragazzi mi sembra che invece non sono ricchi quindi poi c'è anche lo scontro insomma fra ragazzi ricchi ragazzi non ricchi più che lo scontro è il rapportarsi insomma fanno un po' altre le riequilibri questa però è la prima stagione nella prima stagione si scopre appunto che c'è stato un omicidio è la prima della prima si scopre che è stato invece all'inizio della seconda fanno vedere che c'è stato un rapimento ed entrambe praticamente vanno un po' come a casa di carta sarà tipico dell'essere spagnolo non lo so fanno vedere tipo 84 ore a tubo e poi fanno 84 ore prima di questo avvenimento a volte anche Dark lo fa tipo non so vedi la scena del rapimento vedi che cercano tutto quanto e poi va indietro tre giorni prima e vedi cosa è successo pian piano arrivi a quel punto e consigliata bella bella non so non so Sì, non è vero. sono consigliati 30 morsi per ogni boccone non fratti 4 molto male ultima serie tv che vi consiglio è Lucifer che ho visto un po' di tempo fa mi è piaciuta un po' e parla di appunto Lucifer che va sulla terra va a Las Vegas ai nostri tempi e decide di solito ci stava per un po' che decide proprio di starci definitivamente diciamo che comunque è una persona particolare quindi l'attore è bravissimo è un botto divertente il personaggio un botto divertente quella serie tv in generale è proprio divertente non è pesante assolutamente però non è neanche noiosa ok io ho finito di mangiare spero che questo video un pochino più tranquillo ecco è veramente semplice vi sia piaciuta e penso sia giunta l'ora di abbassare di abbassare e augurarvi una buona 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 buonanotte spero non abbia troppa fame ora sogni buonanotte 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 Buonanotte, pasticcini Un bacione E rispera